Ho conosciuto Upface praticamente quando è nata un germoglio di attività, di start-up e mi sono subito innamorato. Adesso vedo che è una realtà importante sul territorio e questo mi fa molto piacere, proprio perché sono cresciuto con loro, devo dire. Mi piace perché sono abituato a lavorare con i giovani, avendo io un'autoscuola e questo è un ambiente giovane, ricco di idee, ricco di iniziative. Un ambiente che è sempre in formazione, non si ferma mai, cerca sempre di sperimentare nuove cose e questo è bello da vedere ed è bello anche perché ho un ritorno sulla mia attività e sulla mia gestione della pagina Facebook. Mi hanno tolto il peso della gestione della pagina in modo totale, nel senso che non devo più preoccuparmi di gestire, devo solo preoccuparmi di guardare quello che loro mi propongono periodicamente. Mi vanno a vedere l'editoriale e quindi io ho solo bisogno di decidere se l'editoriale va bene, se mi piace, se aggiungere qualcosa e devo dire che aggiungo poco e l'editoriale mi piace sempre tanto. Per quanto riguarda l'assistenza tecnica sono molto soddisfatto perché ogni volta che ho avuto un problema ho avuto una risposta non veloce ma immediata. Il team, tutti devo dire, sono sempre molto attenti alle richieste. C'è una gestione tramite WhatsApp e quindi nel momento in cui io ho un problema o una semplice necessità scrivo su WhatsApp e nel giro di pochissimo tempo ho già una risposta che mi dà la tranquillità e poi la soluzione. Di tutto il servizio dato devo dire che i costi sono più che proporzionati. Sono molto soddisfatto. La prima volta che mi hanno proposto il prezzo pensavo di più, ma questo dovrebbe rimanere un segreto. Io consiglio sempre a tutti AppFace perché il mondo dei social network è un bellissimo mondo dal quale si possono ottenere grandissimi risultati però bisogna sapersi muovere e quindi è un po' come viaggiare nelle sabbie mobili, è un po' come viaggiare nella giungla. Se non hai la guida adatta puoi fare grandi danni. AppFace è la guida migliore in assoluto per aggirarsi in questa bellissima giungla di Facebook.